Il più cordiale e buon sabato da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. L'Anfiteatro Campano ospiterà tre serate di grande musica il 14, 16 e 17 settembre. L'iniziativa è programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa da SCAVEC per Campania By Night. Si parte lunedì 14 alle ore 21 in scena a un concerto in omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi per la doppia ricorrenza dei 100 anni dalla nascita. La cultura si costruisce insieme, la Regia di Caserta invita il territorio a fare rete, pubblicato l'avviso per partecipare alle attività di valorizzazione dell'Istituto Museale, rafforzare la sinergia con le istituzioni e le associazioni del territorio per la promozione della cultura e del patrimonio nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità. L'avviso è consultabile nella sezione avvisi bandi di gara del sito internet del complesso vammiteliano. Nasce il progetto Manifesto Oltre. L'iniziativa è promossa dall'Ordine degli Architetti della provincia di Caserta. Il primo atto sarà il convegno Contemporaneità Architettura Città. L'appuntamento è al Belvedere di San Leucio lunedì 14 settembre a partire dalle 15.45 a introdurre e moderare i lavori il vicepresidente dell'Ordine Giancarlo Pignataro. E dal lunedì prossimo 14 settembre sarà aperta la nuova sede di Omnia Arte Caserta, centro delle arti e dello spettacolo diretto dal maestro Fabrizio Coppo. In Corso Giannone 44, Palazzo Crespino. Intanto ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al nuovo anno 2020-2021. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci. Un grande abbraccio e una raccomandazione.